Come accade ogni ultimo mercoledì del mese, Sony ha annunciato i titoli gratuiti per il possessore dell'abbonamento PS Plus per il mese di febbraio. E come accade ogni primo martedì del mese successivo, saranno disponibili per essere scaricati. Ciao a tutti, io sono Sascha e Basta, e in questo video vedremo quali sono i giochi per PS4 che potrete avere il martedì 4 febbraio. Mettete mi piace per aiutare gli altri a trovarlo e andiamo! Il primo dei due giochi per PS4 è Bioshock The Collection. Uscito a settembre 2016 su PS4, Xbox One e PC, questa è una raccolta rimasterizzata della serie di videogiochi Bioshock. La collezione comprende tutti e tre i titoli della serie Bioshock, ovvero Bioshock, Bioshock 2 e Bioshock Infinite, con tutti i DLC single player. I primi due giochi della serie sono stati recentemente rimasterizzati per la raccolta, ma il componente multiplayer di Bioshock 2 non è incluso. Tutto sommato, niente male. Il secondo gioco per PS4 è The Sims 4. Uscito a settembre 2014 su PC e a novembre 2017 su PS4 e Xbox One, penso che questo titolo è conosciuto da tutti. The Sims 4 è un gioco di simulazione di vita. Simile ai suoi predecessori, i giocatori creano un personaggio e controllano la sua vita per esplorare diverse personalità che cambiano il modo di giocare. Credo che quasi tutto quello che c'è da fare nella vita reale e incluso nelle meccaniche del gioco. Ottimo titolo se vi piace il genere. Oltre a questi abbiamo anche un extra, ovvero Firewall Zero Hour per PSVR. Uscito ad agosto 2018 in esclusiva PlayStation, questo è uno sparatutto di azione tattica in realtà virtuale online. È strano vedere il ritorno dei giochi VR in PlayStation Plus, ma se avete il visore e lo stomaco forte potrebbe essere interessante. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questi giochi gratuiti. Siete soddisfatti o aspettavate qualcosa di più? Ricordatevi che questi giochi saranno disponibili il martedì 4 febbraio. Fino ad allora siete ancora in tempo per scaricare i titoli del mese precedente, Uncharted The Nathan Drake Collection e Gold Simulator. Iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati sui titoli PlayStation Plus di ogni mese e altri giochi. Cliccate mi piace per sopportare il canale e se avete qualche domanda o proposta scrivetelo nei commenti. Qui sa ce basta e ciao!